Benvenuti a tutti ragazzi nella seconda parte dello scorso video in cui andremo ad affrontare King Pin Sì esatto, proprio lui Ok, siamo qui nella città Nuoar Che cosa è stato? Quella porta si è appena chiusa da sola? Sì, bro Sono serrature elettriche È un po' troppo avanzato per dei semplici uffici di questa epoca, non credete? Con Kang al comando tutto è possibile Cerchiamo un modo per aprirla Ok Cosa sta succedendo ragazzi? Vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like, iscrivervi al canale di Paredesavoli e... Diamine quella roba Forse rimpicciolendo tutto potremmo farcela No, 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 no Mi sa che quello che prima Di nuovo un labirinto Allora, riusciamolo Y urca Sì Porca raga Bene Un labirinto Completato È esplorato tutto, ma va bene Urca, 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 urca Ok Ok, bello stato Mi piace Andiamo a dire che cosa sta accadendo The Devil Che festa Che festa Agli antichi Musica mi piace Aiuto Aiuto No Bene Bene, passiamoci attraverso Date la caccia a Kingpin, eh? Beh, peccato Nessuno lo sconfiggerà tranne me Oh, sei stata tu, Miss Marvel? Oh sì, sicuramente sono stata io Hmm Non sembrava neanche Kang o Kingpin Quindi con chi altro abbiamo a che fare? Bella domanda State tutti allerta Tira, 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 tira Problema risolto Ben fatto Continuiamo Un altro labirinto Raga, non ci posso credere Ma come nemmeno si arriva, Lea? Presto Bene Abbiamo fatto anche questo Ok Ecco quanto impalla la musica Musica, mi sa che sei un po' impallata Riuscita È fatta Ora possiamo passare Bah Bella questa caccia forte Un po' di monetine, monetà Prendiamo un po' di monetine Vai Sì, ma la porta non è aperta Questa che serve Iron Fist Vediamo, vediamo Cosa succede? Oh 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 Gigi Cosa abbiamo creato, raga? Una specie di trasformatore Per la nostra Miss Marvel Bene L'ha aperta subito, istantaneamente E qui invece che c'è? Cos'è quella roba? Un Ho fatto impallare quelle macchine Ho fatto impallare Urca Un'altra esplosione Sapevo che ci sarebbe stata Maniglie, maniglie Ok Così possiamo entrare Però stavolta prendiamo Voglio provare lo spidenino nuarino No No, 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 no Preferisco Spider-Man nuovo Tira Spider-Man Tira, 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 tira Testa di martello Vi ho detto di lasciar fare Ai professionisti Questo è l'ultimo avvertimento Non so chi sia Ma più il cane è piccolo Più forte abbaglia, giusto? Ben detto Spider-Boogie Va bene Abbiamo anche una testa di martello Si capisce, raga Vi avevo detto di farvi gli affari vostri perdenti La pagherete Testa di martello Sapevo che ti avremmo trovato qui Anche io Affrontiamo sta martellà Il territorio di Kingpin Tutto a parte Rame Non lascerò che mi stiamo Siate tra i piedi Un altro criminale assetato di potere Che vuole conquistare il mondo? Eh, infatti Raga, io voglio usare Iron Fisk Che ostropi Non dovevate venire qui È una questione personale Tra me e Fisk Sembri decisamente arrabbiato Signor testa di martello Ma hai provato lo yoga? Meditazione? Qualche tisana per placare la tua anima operata? Ma infatti Ma raga Non si capisce niente Da, delle testate incredibili Non riesco a piettarlo Non riesco a piettarlo Non riesco a piettarlo Da Ok Cosa costruiamo, raga? No, un piano foco Cos'è? Raga 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 Il mio destramento a Kullun Non mi ha preparato a questo Vai, 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 vai C'è che ha fatto una foto? Furkan, ti piacciono le foto? Non sei Muori Muori Oh Ma dai Forse è l'ufficio di Kimpini Questa è una festa d'ufficio fantastica! Dov'è? Kimpini Non riconosco la sua voce Un'altra torsione temporale Sono felice che ce l'abbiate fatta per i miei festeggiamenti Electra Noire Il mio futuro è luminoso Cavolo Quelle luci sono davvero forti Ci deve essere un modo per passare È l'ora di mettersi al lavoro Vi piace la mia nuova macchina? È un regalino del nostro nuovo glorioso leader Glorioso? Fisk Cosa ti è successo? Non avresti mai condiviso il tuo potere con nessuno Ma A tempo debito, Derdevil Devrò pur guadagnarmi la fiducia di Kang Ok Mi occuperò di lui in futuro Ma adesso Anna No, ma defunto! Sono defunto, raga Non ti ho vista, brother È morta? Che inghipinno, dai Tira, tira Spiderino Andiamo Ok, raga Che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Qued network Che dobbiamo fare? Guardate , sembra dépend sólo Guardate Lo dobbiamo fare Uh Continuiamo tutto Cosa c'è raga? Va bene Cosa diamine succe Cosa diamine succe Ok Ok Fammi prendere Distrutta Ora che sono sindaco Voi eroi Sparirete molto presto Hai vinto solo perché Kang ha programmato i suoi robot affinché votassero per te No io Ti prenderò Attaccate di forza Muori Lui aiuto Costruisci Ok Ok muori Fin Fin Lascia Ti farò morire io con questa Cabina telefonica Siamo Aspetta di forza Me E ma aspetta aspetta lì ah chi è il tuo regno da sindaco è finito telefonate a Kang lui mi ha promesso protezione cosa? mi sa che siamo stati qui troppo a lungo come credi mi senta? andiamo ragazzi vivete un po' cosa? raga finalmente sindaco noir livello completato va bene anche questo livello ragazzi è confettato finalmente era anche ora che completavamo questo livello un voto di personaggi sbloccati tanto sono Iron Fist i personaggi vari andiamo avanti ragazzi ora di rispettare la tua parte dell'accordo Fist concordo bene torniamo alla mitica terra di Kullun io invece torno di sopra per assicurarmi che pulisca a presto è bello si sia ripreso un po' bene 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 sempre nelle scelte ragazzi sappiamo tutti che sceglierò questa quella di Spider-Man comunque noi ci becchiamo a un prossimo video e bella ragazzi con i cavalli bella dai